Buongiorno Friuli, buon sabato mattina puntuali alle ore 7 insieme alla rassegna stampa di UD News TV insieme a voi, sfogliamo i giornali di quest'oggi, testate nazionali, testate locali, testate sportive, poco più di un'ora per scoprire le notizie di giornata insieme, poi parleremo anche di traffico e eventualmente di previsioni del tempo per il fine settimana, ma intanto diamo uno sguardo alle prime pagine di quest'oggi, questa mattina cominciamo con i quotidiani nazionali, con le prime pagine che sono dedicate alla politica, ma non solo, cominciamo con il Corriere della Sera che in apertura mette la sfida a Malta riguardo ai migranti, il barcone con 450 migranti è in viaggio verso l'Italia, è arrivato un nuovo stop da parte del ministro dell'interno Salvini, contatti del ministro con il Quirinale dopo le tensioni degli scorsi giorni, il leader del Movimento 5 Stelle dice c'è rispetto per Mattarella, Salvini dice porteremo i migranti con una nave militare, non deve venire da noi, dice Salvini su Twitter e dice li porteremo a Malta con una nave militare. Vediamo anche la foto di centropagina, domani in campo contro la Croazia, la sfida, perché davvero una sfida la propone Aldo Cazzullo, è possibile tifare per i cugini francesi, il 90% degli italiani, infatti domani tifera Croazia secondo le indagini, le stime, anche il passaparola, ma è possibile tifare Francia senza abdicare a un milligrammo della nostra identità dice Cazzullo. Nella foto vediamo Pol Pogba in azione contro il Peru il 21 giugno scorso. In taglio alto ancora la politica con Di Maio che boccia il trattato con il Canada, critiche dagli industriali, una frenata da parte del Ministro dello Sviluppo e dell'Economia Giovanni Tria, avere accordi commerciali dice Tria è sempre bene e Vincenzo Boccia il Presidente di Confindustria dice un grave errore quello di non ratificare il trattato di libero scambio tra Canada e Unione Europea. Poi vediamo anche le notizie che arrivano dagli esteri, Trump giravolta su May e Brexit, difficile giornata inglese di Trump, prima ha attaccato la Premier May a testa bassa sulla Soft Brexit e poi l'ha invece lodata, donna incredibile che sta facendo un lavoro fantastico. Poi si torna a parlare del accordo con il Canada, vincitori e vinti dopo la scelta lo 0,91% decide per tutti, la pressione dei nostri produttori di formaggi 50 milioni di fatturato l'anno in Canada ovvero lo 0,91% dell'export totale avrebbe tenuto in ostaggio tutto il mondo economico italiano proprio per la ratifica di questo trattato commerciale. Vediamo anche le notizie nella spalla delle storie e delle analisi. L'autogol dignità che taglia 8 mila posti all'anno. L'effetto del decreto viene presentato da Dario Di Vico che dice per la prima volta le Camere approveranno un provvedimento di espulsione dal mercato del lavoro di migliaia di persone. È una conseguenza del decreto dignità che porterà alla scomparsa di 8 mila posti l'anno per i prossimi dieci anni frutto dell'ideologia dell'economia punitiva. E poi riguardo ai vitalizi, pensioni d'oro, altre regole e poche risorse. Dopo ai vitalizi l'accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega prevede il taglio delle pensioni d'oro cioè quelle al di sopra dei 5, scesi poi a 4 mila euro reti al mese. Un obiettivo non facile anche perché questa volta si procederà non per decreto ma con un normale disegno di legge e senza corsie preferenziali in Parlamento. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo alla Repubblica con sempre la questione dei migranti. In primo piano la nuova rotta di Lampedusa non funziona, la linea dura di Salvini dice la Repubblica perché su un peschereccio in acque italiane sono stipati adesso in 450. Dopo il no arrivato da Malta il ministro insiste porti chiusi ma nella notte infatti è arrivato a Lampedusa. Questo peschereccio con 450 persone Malta ha rifiutato l'assistenza e Salvini dice qui non devono sbarcare. Vediamo anche il retroscena, le tre condizioni del Quirinale al governo. Si legge in questo pezzo ogni volta che ci saranno sconfinamenti su alcuni punti essenziali che il presidente Mattarella ha già definito, la magistratura deve rimanere autonoma dal potere esecutivo. Così ha ricordato Mattarella a Conte quando ha sbloccato l'arrivo della nave 18 che Salvini voleva impedire fino all'arresto dei presunti rivoltosi a bordo. Nella foto di centropagina vediamo 100.000 in piazza a Londra per protestare contro la presenza di Donald Trump. Go home si vede in questo cartello retto da un manifestante non sei il benvenuto, il messaggio di chi è sceso in piazza per protestare sulla presenza del presidente americano. Nelle idee vediamo, si parla anche di fincantieri, il colpo basso dei francesi si legge nel pezzo, gli attacchi di Salvini contro Macron rischiano di avere ricadute negative su una partita che vale miliardi con interessi geostrategici. La tensione tra Roma e Parigi si allarga per l'acquisto dei cantieri francesi STX da parte di fincantieri e l'alleanza annunciata con Naval Group. Il racconto è di Mario Vargasiosa, ho scoperto la meraviglia delle stelle, viste dall'osservatorio astronomico delle Canarie, le guerre e le violenze appaiono molto stupide e poi invece temi vacanzieri. Il camper scelta di vita e di vacanza, sempre più giovani donne neofiti, non soltanto nostalgici delle ferie on the road, ecco come sta cambiando il popolo amante del caravan. Questa è la prima di Repubblica, andiamo avanti e vediamo invece la prima della stampa con il Quirinale al governo, basta conflitti tra poteri, ci vuole più rispetto per le procure, questo è il titolo di prima pagina della stampa che parla appunto di quelle che sono state le osservazioni da parte di Mattarella a Conte che ha voluto dare un messaggio molto chiaro sulla separazione dei poteri. Un altro barcone è in direzione dell'Italia, nuovo scontro con Malta, il Quirinale richiama il governo dopo lo scontro istituzionale con il Viminale, adesso basta, conflitti tra i poteri. Intanto un altro barcone con 470 profughi si dirige verso l'Italia, Malta non interviene, vogliono venire da voi. Politica e magistratura, dice il Guardia Sigilli, hanno fatto la loro parte nei rispettivi ruoli, il Ministro della Giustizia Bonafede dice sui migranti, Salvini non ha sbagliato e la crociata in Parlamento adesso è dedicata ai vitalizi, gli avversari del popolo sono i vitalizi e questa è la nuova crociata da parte del governo. Nella foto di centropagina Chiara Ferragni insieme a Fedez in questa foto, insieme al piccolo Leonardo, la fashion blogger ha dovuto cancellare lo spot sul latte artificiale in cui reclamizzava un prodotto con il bimbo in braccio davanti a un biberon. Il bebè testimonial, si legge, stavolta Ferragni scivola sul latte in polvere. Vediamo anche le notizie nella spalla con l'autostrada di Assad che rimette in moto l'economia della Siria e poi il reportage, il Valentino a Torino, da Parco per Famiglie a Fortino dei pusher si legge. Poi ancora le altre storie con l'app che aiuta i pendolari a tagliare spese e chilometri e le baroliadi e così la sfida fra i vigneti diventa un mondiale del vino. Un po' di attenzione ovviamente nei confronti del Piemonte da parte della stampa. Vediamo anche le notizie economiche sulle 24 ore. Lavoro, 80 mila contratti, subito a rischio con la stretta. Si legge nel titolo di apertura, perché è stato pubblicato in gazzetta il DL, da oggi sono in vigore le norme che cambiano il Jobs Act, atteso un impatto negativo sull'occupazione. Il 4% dei contratti supera 24 mesi. Gli esperti dico si disorientano le aziende tra incertezze e possibili contenziosi. Qui vediamo i calcoli che sono stati fatti dal Sole 24 ore e poi anche l'altra notizia economica di giornata, ovvero la mancanza di ratifica dell'accordo con il Canada. Un'altra decisione che è stata considerata negativa da parte di Confindustria e ovviamente anche dal Sole 24 ore. Qui vediamo nella foto centrale il Ministro rimossi i funzionari che difendono il CETA, commercio globale, nel primo trimestre dell'anno in corso l'export di formaggi in Canada è aumentato del 3,5% e quindi a questo punto non viene ratificato questo accordo commerciale secondo quello che sostiene il Sole 24 ore. Per quel che riguarda invece il mondo del tessile manca il ricambio generazionale. Cerca e non trova i nuovi tecnici, il mondo del tessile sono 50 mila gli addetti di cui ci sarebbe bisogno per i prossimi 5 anni. Ancora notizie, i conti Citi e JP Morgan corrono oltre le attese, si parla di Citibank e di JP Morgan, quindi banca americana per i colossi utili in crescita del 16-18%. Poi sui fondi europei Bruxelles dia più tempo, dice Barbara Lezzi, il ministro per il Sud, nel decreto dignità amplieremo la quota pubblica amministrazione per gli investimenti, promette il ministro che non vuole ovviamente restituire i fondi europei in scadenza. Poi vediamo anche nella spalla l'avviso del Colle, basta conflitti tra i poteri dello Stato, meno aperture la domenica, Sidi, Coop, Conad invece è contrario, parliamo di GDO, di grande distribuzione e poi il CDP rinvio al 18 luglio per il rinnovo dei vertici, per appunto i vertici del CDP l'assemblea si è aggiornata al 18 luglio di fronte al mancato accordo a livello politico e poi cantieristica, fin cantieri, nuovi ordini, alleanza militare con Parigi. Adesso passiamo alle testate che prendono una posizione un pochino più netta nei confronti delle notizie, partiamo con il fatto quotidiano, Libia ha partito un altro barcone, Italia stoppa le nuove navi militari dell'Unione Europea, 450 persone in arrivo, il governo punta a rinegoziare la missione Sofia. Un pescareccio in legno, viaggia a carico verso la Sicilia dopo che Malta non è intervenuta nelle proprie acque e territoriali. Diverse le riflessioni, Salvini porti i soldi e i Pink Floyd nel tempo della realtà virtuale. Poi Conte e Di Maio, l'argine molto fragile e meno agevole, esprimono un'opinione di senso compiuto sul Movimento 5 Stelle di governo. E poi ancora il reportage dall'America, viaggio a Tijuana, nell'altro mondo dei profughi, dietro il muro degli Stati Uniti, non c'è solo Trump, si legge. E poi l'economia con l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve è boom in borsa, chi lo sapeva ha incassato 210 milioni. Insider trading, è questo il dubbio che viene al fatto quotidiano, sono troppe le operazioni per essere state fatte solo da tifosi entusiasti. Tra le prime voci del 4 luglio e l'operazione ufficiale delle 10, il titolo vola, passa di mano il 68% della situazioni scambiate sul mercato, sono numeri da grande speculazione. Poi ancora panico in 5 regioni per gli statali e guerra sui buoni pasto che nessuno vuole più, esautorata una mega ditta. Poi ancora la politica, la fuga dal Caimano, 220 amministratori da Forza Italia verso la Meloni. Poi il solito Donald Trump, prima insulta la mail, poi la mail, poi fa l'amicone Trump appunto in visita a Londra. E in vista della finale mondiale di domani contro l'odiata Francia, tutti tifano la Croazia, questo è l'analisi del fatto quotidiano. Cazzullo sul Corriere diceva si può tifare anche per i cugini. Vediamo il giornale, più pedaggi, meno lavoro, ricetta, ammazza Italia, autostrade più care per pagare il reddito di cittadinanza e con i decreti grillini a rischio 400 mila lavoratori. Questa è l'ammazzata 5 stelle, dice il giornale. Secondo fonti bene informate, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti vuole rimettere in discussione la concessione per finanziare il reddito di cittadinanza che costa almeno 17 miliardi e mezzo di euro. L'Unione Europea intanto batte cassa perché vuole 15 miliardi di manovra extra entro il 2019. Quindi l'analisi è riguardo alle provvedimenti di governo economici da parte del governo di Maio Salvini. Rocco Casalino eliminaccia i giornalisti, quest'uomo vuole chiudere il foglio, si legge. Ecco qua Rocco Casalino, l'ex star del grande fratello, è portavoce del premier Giuseppe Conte e ha detto a un cronista del foglio che il suo quotidiano chiuderà presto. La sua era una battuta, si è difeso ma è diventata subito polemica. Poi si parla anche dei migranti, Salvini insiste, i porti vanno chiusi e poi quegli intellettuali naufraghi muti nel mare del potere, cosa serve per raccontare la realtà. Vediamo anche Libero, poi diamo uno sguardo anche al manifesto, ci spostiamo poi sulle testate locali. Conte servo di tre padroni, questa è l'apertura polemica di Libero con notevole ironia nei confronti del Presidente del Consiglio che secondo la testata supera Arlecchino. Dopo Salvini e Di Maio anche Mattarella dà ordine al professore Scolaro. La telefonata del Colle per far sbarcare i profughi di rotatori scontenta il leghista che vieta la proda a una nave con 450 persone e pensa di rimandarla indietro. Così dice Libero che appunto fa una metafora facendo un paragone tra il Presidente del Consiglio e l'Arlecchino Di Goldoni che nella commedia era appunto servo di tre padroni. Si sono esibite a Milano in Piazza Castello delle detenute di San Vittore che sono diventate attrici fatti milanesi e poi ancora il portavoce del Premier fa il bullo con i giornalisti, Casalino minaccia il foglio e chi lo paparazza invece con il compagno gay e poi si parla ancora di Pier Camillo Davigo e l'EPM Davigo strapazza il Ministro dell'Interno Salvini perché tutti attaccano Matteo. Poi ancora brava la Meloni dice Libero meglio tutelare la polizia che i criminali e poi opinioni a confronto riguardo alla riforma dei sindacati, il governo abbia pietà, qualcuno invece dice, in questo caso Vittorio Feltri, chiuderei con piacere tutti quanti i sindacati. Vediamo quindi adesso la prima pagina delle manifesto, poi ci spostiamo sulle testate locali con Salvini in questo sguardo particolarmente preoccupato e la didascalia che recita il beccaporto invece di il beccamorto, quindi la consueta prima del manifesto sempre con una ironia piuttosto smaccata, non c'è fine all'ossessione del Ministro degli Interni che ingaggia un nuovo braccio di ferro su 450 migranti ignorati da Malta e diretti a Linosa. Sappiano i buonisti dice che questo barcone non arriverà mai in un porto italiano, questa è la sua dichiarazione anche se appunto il braccio di ferro non è solo con i buonisti ma anche con altre cariche dello Stato. Vediamo sempre per i fatti italiani nella spalla decreto dignità di Maio a Coldiretti, scriviamo insieme la norma sui voucher, a 11 giorni dal Consiglio dei Ministri il decreto dignità e legge, i voucher non ci sono ma Di Maio non si arrende alla Lega e a Coldiretti annuncia, scriviamo la norma assieme. Poi ancora le elezioni del CSM, è stato un voto di protesta non solo di destra, Zaccaro infatti è stato eletto al CSM. Vediamo anche invece gli esteri con Bruxelles che chiede una manovra bis all'Italia, il muretto di Tria, una nuova manovra correttiva viene chiesta dall'Europa del valore di 5 miliardi nel 2018. E poi a Londra, la protesta contro Trump che prima minaccia e poi si riappacifica con Teresa May. Adesso vediamo anche le notizie in taglio basso, i paesi dell'est volano ma il cavallo dell'Eurozona non beve e poi c'è da bloccare l'accordo per un commercio più giusto. Un anno fa il governo italiano tentava un blitz estivo in coda di legislatura per regalare a Bruxelles la ratifica del CETA, ce lo chiede l'Europa, dicevano, per dimostrare che ci teniamo e che siamo diversi dal protezionista Trump. E quindi c'è ancora polemiche riguardo la mancata ratifica di questo accordo commerciale. Queste le prime pagine di quest'oggi, andiamo sulle testate locali per vedere quali sono le notizie che ci riguardano più da vicino sulle testate della nostra regione e non solo, cominciamo con le prime e poi le sfogliamo insieme. Partiamo dal gazzettino che in prima pagina mette la nave dei migranti e la tassa sui turisti che per il Veneto vale 71 milioni di euro, record in Troiti alla provincia di Venezia, la sola Iesolo vale 5 milioni, di questi 71 milioni il 66% è andato proprio a Venezia. Ma vediamo la prima pagina del Friuli con il salvataggio di 8 giovani belghe che erano con il loro accompagnatore in aiuto arrivato il soccorso alpino di Cava, i finanzieri di Stella Nevea si erano perse nella notte fra i monti, i soccorritori hanno dovuto operare sotto la pioggia, il gruppo e va smarrito il sentiero in Valdogna. La chiamata di aiuto è arrivata intorno alle 20.30 di giovedì sera e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata. Qui vediamo la foto di centropagina con due Friulani fra i tanti scienziati che hanno collaborato al risultato pubblicato su Science che rappresenta il primo indizio per spiegare l'origine dei raggi cosmici. Friulani appunto dice il titolo sulle tracce del mistero cosmico, un lavoro corale che ha coinvolto 15 esperimenti diversi. Poi ancora la cronaca con una rapina in distributore, poi la fuga in bicicletta ha minacciato un dipendente con la lama, il colpo ieri mattina in via Colugna. Poi per la vicenda Copca quasi tutte ammesse le istanze da parte della parte civile e presentata l'udienza preliminare per il crack della cooperativa carnica. Per la riforma della sanità è stato istituito un comitato di saggi, la giunta regionale ha voluto radunare degli esperti per rimettere mano all'assetto del sistema sanitario dopo la precedente riforma. E qui vediamo anche il primo test oggi dell'udinese a Manzano, il tecnico Julio Velasquez porta l'udinese in costruzione fuori dal Bruseschi e a Manzano dalle 18 contro la rappresentativa regionale Juniores. Intanto ieri, lo vediamo nelle immagini, Nicolas Opoku, un difensore ganese dal fisico possente, è stato ufficializzato. Vediamo anche la prima pagina del piccolo con la foto di Trieste e di Joyce perché ci sono tanti concerti in vista nel capoluogo triestino, la carica dei 18 mila fan, alta al vetro, 4 accessi in piazza, problemi ovviamente di gestione dell'ordine pubblico e di sicurezza per il capoluogo regionale. Si esibiranno infatti Iron Maiden, Steven Tyler e David Byrne. E qui vediamo l'allestimento del palcoscenico proprio in piazza Unità, ci si aspetta 18 mila fan, ma l'apertura del piccolo è dedicata al mondo della sanità, 8 mila senza premio, conti in rosso nelle aziende di Trieste e Udine, i dipendenti sono stati penalizzati. L'assessore Riccardi intanto nomina 12 saggi per cercare la controriforma adeguata proprio per il mondo della sanità. Poi vediamo anche il caso con i Regioni che sono stati in visita da Conte e da Fico, il governo ha un piano riguardo al caso appunto di Giulio Regioni che è ancora non chiaro e che riguarda i rapporti diplomatici fra Italia e Egitto. Poi vediamo in arrivo un altro barcone, riparte la sfida con Malta, oggi a Tolosa, a Trieste riceve il testimone per il 2020, la città infatti sarà capitale europea della scienza, una bella notizia e nel 2020 appunto l'avvenimento, oggi il passaggio di testimone con Tolosa. Vediamo la prima pagina del Messaggero Veneto che parla invece delle scuole, dopo il caso sollevato dal sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinte, c'è un'indagine su quello che è il mondo dei ragazzi, dei bambini stranieri nelle scuole e poi si torna a parlare anche di Via Mercato Vecchio, questa è la prima pagina del Messaggero di quest'oggi. Uno scolaro su dieci è straniero, si legge le polemiche sul caso Monfalcone, i picchi nel Pordenonese, a Udine c'è anche una classe senza italiani, in Friuli Venezia Giulia, uno studente su dieci non è cittadino italiano, per la precisione l'11,7% che corrisponde a 14.852 studenti su 127.054 che frequentano le scuole di ogni ordine e grado della nostra regione. E a dispetto delle polemiche sollevate in questi giorni nel Molfalconese dove si vorrebbero introdurre i tetti, la provincia con la percentuale più alta di allievi arrivati da oltre confine è invece il Pordenonese, ma in alcune scuole elementari di Udine ci sono classi composte solo da stranieri. L'indagine della prima pagina, che poi sarà ripresa anche all'interno, è di Michela Zanotto, poi apriremo, è proprio l'apertura di giornale di quest'oggi. Ma continuiamo a guardare le notizie in prima pagina, attese troppo lunghe e frequenti blackout, l'1-1-2, così non va il numero unico di emergenza e poi torna l'allarme l'isteria, ecco come evitare i cibi a rischio. Poi grave incidente per la coppia friulana dei rally, Andreucci e poi un coltello alla gola, due rapine commesse in poche ore, c'è però un fermato. A Tarbisio invece ha individuato un nigeriano che aveva in pancia oltre un chilo di cocaina. E vediamo anche la foto di centro pagina che parla di via Mercato Vecchio, i baristi, le auto in via Mercato Vecchio, proviamo ma poi il comune si decida. Qui vediamo lo scatto proprio della via. Via che appunto è al centro del dibattito politico, in città e non solo, via Manini intanto non ci sta e raccoglie le firme. Via Mercato Vecchio non piace ai baristi l'opzione ibrida per la via centrale, preferirebbero la pedonalizzazione ma soltanto a fronte di un progetto ben articolato. Nel frattempo ben venga l'apertura alle auto, via Manini invece non ci sta, raccoglie firme contro la riapertura al traffico. Questa è la foto di centro pagina. E poi vediamo anche l'incarico, nel gruppo anche l'ex assessore Gian Piero Fasola, la giunta affida a Otto Saggi lo studio della riforma. Quindi la proposta avanzata da Riccardo Riccardi e condivisa ancora con il presidente Fedriga è stata approvata dalla giunta del gruppo. Fanno parte Lionello Barbina, Gian Piero Fasola, Silvio Brusaferro, Piero Cappelletti, Roberta Kersevani, Gianfranco Sinagra, Giorgio Rosse, Don Davide Larici. La ricognizione del sistema sanitario regionale durerà sei mesi e servirà appunto ad allestire la controriforma. Allora apriamo insieme il giornale, sfogliamolo intero. Un aluno su dieci non è italiano, ci sono classi solo di stranieri. Questa è l'apertura del Messaggero Veneto, l'11,7% è la percentuale di allievi immigrati in regione. Il Pordenonese è la zona con la concentrazione più alta. La Dante di Udine però, ad esempio, la scuola primaria con 86% di studenti immigrati. Qui gli italiani non verranno mai. E' la domanda che i piccoli fanno alle maestre perché le famiglie, se possono, scelgono altre scuole. Frizz e Bellavitis sono istituti modello perché, a detta del dirigente, l'integrazione è riuscita grazie agli insegnanti e alla mediazione culturale attivata con ACLI e CESI. In entrambe le scuole la presenza degli allievi stranieri del 27%. A Pasiano di Pordenone i piccoli sono tutti di origine straniera. Il dirigente Maurizio Malachine è orgoglioso della sua scuola, da forza al futuro di 60 bimbi. Invece a Trieste su 21.000 studenti sono immigrati di prima e seconda generazione, circa 2.000. Questi sono i numeri che fanno la fotografia della situazione in regione, però a Chions, Pasiano e Sacile si registrano i picchi degli studenti arcobaleno. Le famiglie hanno diverse provenienze, dall'Albania alla Cina all'Africa all'India. Presidi e insegnanti sono molto orgogliosi dei progetti che mettono in atto per integrare i ragazzi. Andiamo avanti e lasciamo perdere le notizie nazionali di cui abbiamo ampiamente parlato durante la presentazione delle prime pagine di quest'oggi. Scorriamo insieme velocemente le pagine e passiamo a quella di economia. Perché Fincantieri incassa una maxi commessa da Tui Cruises per due navi, strano le più grandi mai costruite in Italia. Operazione da un miliardo in attesa della gara negli Stati Uniti, ieri appunto la presentazione. Ma passiamo alle pagine di Udine con la rapina, anzi due rapine in poche ore. I carabinieri hanno fermato un sospetto ieri mattina in Via Colugna all'IP con un bottino da 700 euro e poi la fuga in bici. Nel pomeriggio invece l'interspar di Martignacco potrebbero avere tutte la stessa mano, le quattro rapine, due sole andate a segno che negli ultimi tre giorni hanno avuto come bersaglio due distributori di benzina e altri tanti supermercati tra Udine, Pazian di Prato e Martignacco. Sempre un uomo da solo italiano, circa 1,85 che ha minacciato con il coltello titolari e dipendenti. Adesso c'è però il fermo di un sospetto, un friulano sulla Trentina intercettato mentre si trovava nella sua abitazione in città. Le immagini sono però state riprese dalle telecamere e quindi il malvivente potrebbe essere a breve identificato. Lo stesso distributore è stato assaltato anche un paio di anni fa. Adesso parliamo di via Mercato Vecchio con i baristi che dicono va bene la prova con le automobili, i pareri sono positivi, basta però soluzioni ibride, c'è anche chi però è contro e preferirebbe invece un centro interamente pedonale, come ad esempio il via Manin che ha chiesto e ha già iniziato la raccolta di firme per non riaprire al traffico. C'è una petizione, non ci sono parcheggi davanti ai negozi a richiamare i clienti e i turisti e quindi bisogna lasciare il centro pedonale così come è stato concepito dall'ultima giunta. Multe nella ZTL, intanto parte un ricorso, i controlli ai varchi, i cartelli ai varchi sono poco chiari. Un cittadino residente in via Cavour scrive al giudice di pace al sindaco, tra le altre cose non ho gradito l'ironia al limite dell'offesa da parte dei vigili, si legge. Poi alcuni piccoli incidenti in città, un giovane ciclista urtato nel sottopassaggio, in Viale Venezia il tamponamento con quattro feriti non gravi. Invece un incidente serio per il campione Andreucci, stava facendo un test delle gomme in Liguria, lievi ferite invece per la sua compagna e navigatrice Anna Andreussi di Artegna. Quindi avevano iniziato questa sessione di prove nell'entroterra di Sanremo, intorno alle 16. C'è stato un terribile schianto. Poi gli amici di Udine in Africa caccia di acqua nel Benin, per solidarietà da 12 anni raccolgono fondi in Friuli per costruire pozzi e scuole proprio nel paese africano. Andiamo sempre avanti con la cronaca cittadina, nascita dei neutrini anche Friulani nel team, l'abbiamo visto anche sul gazzettino. Cortina va sostenuta per portare le gare sulle nostre piste. Si parla del caso Olimpiadi. Cortina potrebbe ospitare le prossime Olimpiadi invernali. E qui vediamo una foto degli amatori di Barazzetto, l'incontro dei ricordi a 20 anni dallo scudetto di campioni d'Italia, del campionato amatori FIGICI. Ancora la cronaca con Lampi che ricorda Solari, comandante partigiano, imprenditore e politico. Domani alle 11 nell'ex caserma Osoppo di via Brigattare. È stato un antifascista scomodo, un uomo molto importante. Passiamo velocemente alla provincia, poi una piccola pausa pubblicitaria. E lo sport ruba e danneggia macchinari nell'azienda che lo ha licenziato. È successo ad Amaro, un trentenne di moggio ha compromesso la produzione della TDP-SRL, denunciato lo scorso 21 giugno, era entrato nello stabilimento utilizzando i codici di sicurezza. Poi i fondi Agea, Mazzolini rassicura gli agricoltori. Siamo alla soluzione e poi ancora i comuni ricicloni a Tolmezzo, i risultati migliori li ottengono Sutrio, Raveo e Zuglio. Sempre per la provincia nigeriana ingerisce 95 ovuli, ne pancia più di un chilo di cocaina. Un 29 è fermato allo scalo di Bosco Verde, era su un treno diretto a Firenze. E poi ancora le ragazze belghe che sono state salvate dopo essersi perse di notte sui monti, avventura a lieto fine per le giovani straniere che erano partite nella mattinata per raggiungere il Lussari. Con questo ci fermiamo, piccola pausa pubblicitaria e poi ritorniamo con le notizie sportive.